Amici di Vending News, bentornati. Siamo in diretta con questo Vending Focus speciale Venditalia con l'Operation Manager di Caffè Izzo SRL, la torrefazione napolitana che ormai è presente in tutte e cinque le aree Nielsen e siamo in collegamento con Angelo Manzilli. Angelo, buongiorno e benvenuto dinanzi agli schermi di Vending TV. Buongiorno Fabio, è stato un piacere ritrovarti. Ecco, il piacere è tutto mio, noi abbiamo corso tanto con telecamera e microfono, non siamo riusciti a incontrarci nel corso della manifestazione Venditalia, ci eravamo dati un appuntamento subito dopo ed eccoci qui proprio per andare a parlare di quelle che sono state tutte le novità che negli ultimi 4 anni innanzitutto Caffè Izzo è andata a realizzare con il suo ufficio ricerca e sviluppo di cui fai parte anche tu e allora diamo il via alla presentazione di tutto ciò che avete presentato a Venditalia. Sì, il Venditalia Fabio è sempre un appuntamento ricco di confronti e stimoli. Noi quest'anno, questa è la seconda edizione che abbiamo fatto, abbiamo presentato le nostre macchine a cialde prodotte interamente da noi, quindi un made in Italy al 100%, tutte completamente in acciaio, è una macchina bella pesante e viene presentata per la prima volta dal nostro azienda, dal nostro gruppo. Inoltre abbiamo inserito una serie di novità, abbiamo inserito da quando dall'ultima volta una miscela nuova, una miscela corposa, una miscela fatta proprio per il sud Italia, la nostra gran crema nei diversi formati di cialde e capsule compatibili. Un'altra novità che abbiamo inserito sempre negli ultimi mesi, a metà del 2021, sono i solubili. Abbiamo inserito la nostra gamma di solubili che per fortuna riesce ad avere un gradevole riscontro da parte dei clienti. Beh, direi che non è assolutamente poco, anzi, io guardavo che nel frattempo alla tua destra, alle tue spalle, c'è proprio questa macchinetta con tre colori basici, rosso, verde e blu, ma credo non siano gli unici colori con i quali fornite questa macchina. No, infatti riusciamo a customizzare la macchina a seconda delle richieste dei clienti. Abbiamo ricevuto un buon feedback durante la manifestazione. È possibile dedicare la macchina alla persona a cui la si vuole magari regalare, perché abbiamo la possibilità di serigrafarla direttamente in azienda. In più è possibile scegliere il colore che più si gradisce. Ecco, questa macchina è una tra le più piccole sul mercato e devo dire anche che, avendola vista da vicino, ne posso garantire la compattezza. Non è affatto una macchina fragile, anzi, è veramente molto strong. Passiamo quindi a ciò che è alle tue spalle, ma stavolta a sinistra. E quindi tutti quelli che sono i prodotti solubili che avete presentato, quanti sono e con quali varietà? Sì, abbiamo una gamma di 12 solubili che stiamo implementando con i nuovi arrivi, nocciolino, zabaione, biscottino. In più nel frattempo abbiamo i classici solubili che è ginseng, ginseng amaro, orzo, cioccolato, cioccolato bianco. Ci stanno chiedendo ovviamente una marea di gusti, di miscele differenti, però ovviamente è una gamma che bisogna avere per andare a completare il mercato. Beh, questi sono i gusti dei consumatori che crescono e si adeguano ai tempi, facendo adeguare anche un po' voi produttori. Parliamo infine della miscela che avete presentato in questa occasione. Voi siete i principi della torrefazione, avete una lunga storia alle spalle. Allora, innanzitutto ti chiedo attraverso quali studi è venuta fuori questa nuova miscela? Sì, abbiamo creato questa nuova miscela, è la Gran Crema, un 100% robusta, che va a prendere quel segmento che desiderava ricevere un caffè un po' più robusto, un po' più duro. Siamo riusciti a creare questo prodotto che viene approvato, viene accettato, soprattutto al sud Italia, però sta avendo comunque un gradevole riscontro anche nel nord Italia e all'estero. Io sono molto curioso di andarlo ad assaggiare prossimamente nel corso di qualche manifestazione fieristica, avrò certamente questa opportunità. E allora, Angelo, nel caso in cui chi guarda questo focus, questo vending focus speciale venditaria, desideri entrare in contatto con voi, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere senza alcun impegno, naturalmente? Sì, Fabio, abbiamo appena rifatto il nostro look al sito aziendale, ci potete trovare su www.caffeizzo.it E noi naturalmente cercheremo di parlare delle novità che il gruppo Izzo propone al mercato del vending e dell'OCS anche attraverso la rivista bimestrale Vending News e il sito di informazione quotidiana vendingnews.it. Ringrazio l'ingegner Angelo Mazzilli che è stato davvero cortesissimo nel ospitarci e farci entrare in casa Izzo perché tu sei collegato proprio dalla sala riunioni di casa Izzo, del gruppo Izzo, è così? Sì, grazie a te Fabio e spero di rivedervi presto. Grazie, grazie Angelo, noi ci rivedremo prestissimo dunque con Caffè Izzo e noi nel frattempo, come dicevo, riusciremo a dare anche qualche altra chicca, qualche altra novità di quelle che sono le produzioni di Caffè Izzo per il mercato del vending e dell'OCS. Torniamo prestissimo con altro vending focus speciale venditaria.